Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Elezioni politiche, il centrodestra il Pino ha finalmente capito che si vota tra due settimane e non tra due mesi e l'altra sera si è deciso a presentare ufficialmente la candidata nel collegio di Ariano, Carmela Grasso, cui spetterà l'onere e l'onore di tentare di battere Giuseppe di Mita. In campo al suo fianco anche Cosimo Sibilia, capolista nel proporzionale Camera il Pini Asannio. Duro l'affondo del senatore nei confronti degli avversari del centrosinistra soprattutto. Il fallimento del PD e dei suoi alleati, ha detto, è sotto gli occhi di tutti. Sante parole. Ci permettiamo di aggiungere tuttavia che quando ha fallimenti pregressi il centrodestra il Pino non è secondo a nessuno. Grazie.